Seconda parte di fatti e commenti, parlavo di musica, Manuele Lodolini ha detto che fai, canti, no non canto perché qui parliamo di musica a livello concertistico, perché siamo in compagnia del presidente del corpo bandistico città di Filottrano, Maurizio Massei. Buonasera Massei. Buonasera Luca, grazie. Allora, è uno dei corpi bandistici penso più longevi della nostra regione, perché praticamente voi siete nati prima dell'unità d'Italia, cioè... Precisamente, precisamente Luca. Noi abbiamo un verbale, diciamo che è nel comune di Filottrano, un verbale che è dato 1866 in cui è stancita la costituzione della banda nel 1861. Quindi è la data storica che noi abbiamo preso in considerazione, sulla quale poi ci siamo basati anche per quello che è stato il centocinquantesimo. Nel 2016 abbiamo, diciamo, in qualche maniera organizzato tutti i nostri eventi proprio in funzione appunto della ricorrenza del centocinquantesimo. Siete un gruppo numeroso e storico. Io ho voluto dare spazio a questo corpo bandistico, sia perché è rappresentativo di tanti altri corpi bandistici presenti anche nei nostri piccoli e grandi comuni, no? Perché la banda ti dà quel senso di appartenenza alla comunità, sottolinea quei momenti più importanti, da la processione pasquale alle inaugurazioni... Il patrono. È il patrono. Ma non solo, perché poi svolge un ruolo anche a carattere sociale, che spesso ci dimentichiamo, perché oggigiorno fare musica, andare al conservatorio, andare nelle varie associazioni private richiede, o dei vari maestri, richiede una spesa economica. E invece c'è la banda, diciamo, che anche lì i ragazzi si avvicinano alla musica, grazie anche a voi. Sì, esatto. Noi puntiamo molto su quello che sono praticamente la formazione dei giovani. Abbiamo istituito un corso di orientamento musicale, a cui a questo corso possono accedere tutti i giovani del paese, di Filotrano. È un corso triennale, dove abbiamo cinque maestri che seguono le varie sessioni di strumenti a fiato e le percussioni. Alla fine di un corso che dura tre anni, alla fine di questo triennio c'è un esame con una commissione costituita da maestri e da un componente del comune. Terminato l'esame, il giovane all'allievo può entrare in banda, può iniziare a suonare in banda. Ed è questo un po' l'intento del direttivo attuale, cioè quello di poter, in qualche maniera, coinvolgere il più possibile le nuove generazioni. Le associazioni sono costituite generalmente da persone longeve che a un certo punto o per età o perché comunque per impegni la famiglia cresce e quindi sono costretti un po' a lasciare. E quindi abbiamo bisogno di un ricircolo. E a riguardo abbiamo preso contatti proprio con il nuovo dirigente scolastico, Antonietta Vincitorio, il quale ci ha permesso di pubblicizzare i nostri corsi all'interno del studio comprensivo. E' lo strumento, abbiamo visto, più efficace e più immediato perché facciamo una lezione a concerto, una mattinata impegnata appunto nell'auditorium come una lezione a concerto. Gli studenti vengono un po' a conoscenza di questa realtà che se non ci fosse questo... Se non la toccano con mano non si renderebbero conto, no? Quindi capiscono un pochino come funziona uno strumento e da lì ci sono volontari, diciamo, che in qualche maniera vogliono venire a fare una prova. Abbiamo comunque istituito ogni anno, a ridosso appunto di questa lezione a concerto che capita a settembre, abbiamo una giornata in cui invitiamo poi questi ragazzini nella nostra scuola. Suonano tutti gli strumenti con il maestro compreso, ogni maestro dà un giudizio in base all'attitudine che ha questo ragazzino e poi se il discorso prosegue vengono a suonare in banda, vengono a iniziare quel corso, come e poi suonare in banda. E questo è... E poi vengono a suonare anche all'estero con il vostro corpo. Esatto, esatto. Ma qui, diciamo, ci rifacciamo un pochino un po' al motivo per cui, ecco, operiamo in un'associazione dove non c'è scopo di lucro, però dove in qualche maniera ci sentiamo il dovere di svolgere un compito, cioè quello di creare aggregazione tra giovani, tra componenti e individui che hanno un po' la stessa passione, cioè quella della musica. Che poi alla fine non è solamente ritrovarsi per le prove, cerchiamo anche di intervallare gli impegni anche in momenti ludici, tipo, non so, Santa Cecilia è il momento per eccellenza dove ci ritroviamo tutti, con i genitori, amici e quant'altro. Terminata praticamente la messa ci ritroviamo tutti a mangiare insieme, ma anche durante il periodo estivo, comunque, ecco, non tralasciamo questo aspetto importante che è motivo di aggregazione, motivo di potersi scambiare delle opinioni tra magari più giovani e meno giovani, cosa che ci teniamo tantissimo. La vostra attività non termina soltanto con la sottolineatura del momento celebrativo, ma fate anche dei veri e propri concerti, non solo in giro, ovviamente, per i vari comuni, o in quel caso abbiamo visto anche in Francia e in Germania, ma anche nella vostra città c'è un concerto che so che è rinunciabile, quello di Natale e anche quello d'estate, insomma fate due appuntamenti quando riuscite all'anno e poi c'è stato quel grande concerto a Villa Spada che penso che tutti ricorderanno con un grande compositore. Un grande compositore. Quella è stata praticamente un'occasione in cui abbiamo dimostrato che la banda non è solamente un repertorio di tipo bandistico, ma grazie all'impegno del maestro Gianluca Sartori, proprio in quell'anno, per suggellare un attimino un po' l'importanza, al centocinquantesimo Gianluca ha invitato questo compositore statunitense, Brian Balmici, e la banda ha suonato appunto dei brani arrangiati dallo stesso Brian, quindi è stato un evento importantissimo, dove qui ringrazio sempre la contessa Margherita Valbo Divinario. Ecco perché a Filottrano hanno una marea di ville, perché ovviamente è un luogo periferico, molte famiglie nobiliari, anche i famosi gentiloni di Silveri, quindi da Roma magari allora, oppure a Tolentino dove stavano, per l'estate la passavano in queste bellissime dimore storiche, c'è Villa Centro Finestre, insomma ce ne sono davvero molte, Villa Spada come lei ha citato, e quindi queste ville anche grazie a loro ritorno più vive grazie ai concerti. Sì, i concerti che alle volte li facciamo anche in piazza Gavur, piazza principale del comune, però ci sentiamo anche qualche volta in dovere di organizzare o a Villa Centro Finestre, perché abbiamo fatto anche nel parco di Verzura, Villa Centro Finestre, abbiamo fatto un concerto, ci sentiamo anche di valorizzare quelle che sono praticamente le nostre ricchezze. E a Filottrano voi avete un punto di riferimento, perché è una città che ha dato i Natali a imprenditori del settore della moda, l'ho accennato prima per carità, ma anche Natali a personaggi come ad esempio Giovanni Carestini in arte il Cusanino, questa voce bianca del Settecento che nel periodo barocco calcò i più importanti teatri d'Europa, era uno dei più apprezzati e più richiesti, e quindi è una città che ha delle ottime radici, delle profonde radici in campo musicale, tant'è vero che c'è anche un'associazione che si chiama proprio Il Cusanino, che anche lì si fa musica, e vedo che da voi c'è molta collaborazione, nel nome della musica unisce, è una musica molto più di condivisione e di inclusione quella proposta nella vostra città. Sì, questa collaborazione con artisti di Filottrano ci teniamo comunque a tenere sempre... Poi avete anche i Severini, la gang, poi erano rincito tutti, però c'è davvero una tradizione dei vari aspetti, le varie sfaccettature musicali, no? Sì, anzi, diciamo che abbiamo avuto anche degli episodi in cui abbiamo coinvolto i cori, noi a Filottrano ha una tradizione, diciamo, dal punto di vista musicale enorme, perché abbiamo tantissimi gruppi musicali, band, abbiamo anche i cinque cori... E una arrivata in finale, X Factor, cioè un duo... Ecco, il duo, sì, Little Piece of Marmelade... Little Piece of Marmelade... E quindi, ecco, in questo contesto così vario e così profondo di musica, cerchiamo in qualche maniera anche di trovare occasioni per, ecco, per poterci coinvolgere a vicenda. Le stesse, i concerti che facciamo con la Junior, in diverse occasioni, quindi con i nostri ragazzini, in diverse occasioni abbiamo coinvolto anche gli allievi del Cusanino, perché noi suoniamo solo, facciamo solo strumenti a fiato e percussioni, quindi ci manca quella che ha la chitarra, ci manca il pianoforte, ci manca il canto... E quindi... Sono quelle occasioni molto stimolanti per i ragazzini in cui praticamente si suona insieme e un po' raggiungere l'obiettivo fondamentale della musica, cioè... E qui quando io voglio descrivere l'importanza della musica, faccio sempre riferimento alle parole che state dette dall'ex ministro delle istruzioni Bianchi, dove dice che la musica è il linguaggio universale, è un linguaggio che accomuna tutti. Non c'è bisogno del traduttore, non c'è bisogno di traduzione. Ci vuole orecchio. Quindi è lo strumento ideale per creare appunto gruppo e socialità tra gli individui. E c'è un appuntamento, parlava di corali, c'è un appuntamento che è quello di questo venerdì 13 proprio a Filottrano, dove viene riaperta, dopo i lavori di istrutturazione che hanno comportato un parecchio impegno, soprattutto per la diocesi, per la curia di Ancona Osimo, la chiesa di Santa Maria Assunta, detta della pieve, la chiesa della prepositura, la chiesa più importante, diciamo quella più... la parrocchia, ecco, di Filottrano, con il concerto che sarà proprio il 13 aprile alle 21 e anche qui abbiamo un programma molto ricco. Molto ricco. Sì, qua Gianluca ha coinvolto i due cori con i quali abbiamo parlato anche in altre occasioni, il coro Andrea Grilli di Sirolo e il Vincenzo Cruciani di Ancona, poi abbiamo questa invece soprano, raccontante soprano che viene da Ascoli, Antonietta Perozzi, e un repertorio di musica sacra, comunque sarà molto aglietante come repertorio, perché abbiamo praticamente dei brani dove ci sarà una vivacità e dove ci sarà anche un notevole impegno dal punto di vista artistico, quindi, non so, brani da artisti molto, molto importanti. È una chiesa veramente molto bella anche da vedere, c'è un'acustica, devo dire che siamo andati a visitare la chiesa in questi giorni per realizzare un servizio e abbiamo visto parlando con il parroco, c'è un'acustica anche molto buona, con i lavori hanno rifatto la pavimentazione, insomma, si è intervenuto in una chiesa dove tra l'altro ci sono le spoglie di Giacomo Costantino Beltrami, c'è questa lapide che ricorda, a colui che scoprì le esorgenti del Mississippi, quindi fu un personaggio che è nato a Bergamo, poi ha legato il suo nome moltissimo alla vostra città a Filottrano. I giovani quanti siete? Cioè il corpo bandistico, i numeri per capire... L'organico è di 50 elementi. Bello, bello colpo, cioè sei un comune di 9.000 abitanti, non è che siete un grande comune. Un organico di 50 elementi che sono associati, insomma, in quanto appunto facenti parte del corpo bandistico. Cerchiamo in qualche maniera, appunto, nonostante il numero così, cioè un numero elevato, però comunque il nostro obiettivo è sempre quello di avere sempre nuove new entry nell'associazione. Il rinnovamento continuo. Il rinnovamento continuo perché comunque, come ripeto, è un impegno che non tutti riescono a... Il ragazzino che va a studiare fuori, che fa inizio all'università, oppure... Sì, la famiglia che cresce, quindi abbiamo bisogno veramente di poter fare dei servizi con un organico completo, perché abbiamo bisogno sempre di nuove entrate. E questo è a cui ci tengo, appunto, in questa occasione a ribadirlo. Invito chiunque abbia in qualche maniera desiderio, voglio, comunque di provare su uno strumento, di contattarci. Quindi, quelli di Filotrano, contratto nel corpo bandistico di Città di Filotrano, poi altri comuni, visto che ce ne sono anche di loro comuni, perché è un modo per incentivare la musica. Siamo proprio alle battute finali. Le ultime notizie, alcune sono di politica, ma veramente sono pillole. Una ci viene proposta, in questo caso, da Cronaca Maceratesi. Abbiamo parlato anche la settimana scorsa di Civitanova Marche, eccetera. Chi l'ha visto il Consiglio Comunale? La minoranza chiede di tornare in aula perché sono passati 105 giorni dall'ultima seduta. Oggi, poi, tra l'altro, poco prima di noi, proprio sull'ora di tre andavi, non da chi l'ha vista, no? I consiglieri, Francesco Micucci, Mirella Pagalunga, Elisabetta Giorgini, Lidia Iezzi e Piero Gismondi, Letizia Murri e Iuri Rosati, hanno chiesto la convocazione di un'assise, perché nell'ultima erano state approvate le tanto contestate varianti che avevano provocato una spaccatura in Fratelli d'Italia. Ci sono troppi temi che sono stati passati, tenuti a bagnomeria. Così recita, ovviamente, una dichiarazione da parte dei consiglieri che si sono presentati in conferenza stampa e hanno chiesto che venga convocato proprio il Consiglio Comunale. Invece c'è un altro argomento che ci viene sempre proposto a Cronache Maceratesi, che riguarda il digiagio psicologico e la carenza di personale, problema che interessa soprattutto le nostre carceri. Andiamo nel dettaglio. Gian Carlo Gironelli, che è il garante dei diritti della regione Marche, ha fatto un pochino il quadro sulla situazione dei penitenziari e purtroppo c'è questo problema a livello psicologico di molti detenuti. I casi di suicidio accadono anche nella nostra regione. Le risorse non bastano mai e non basta più accendere i riflettori soltanto quando si è a cospetto di gesti estremi, ma al momento ci troviamo in una situazione di profondo stallo e quindi invita soprattutto il garante Gironelli a un cambio di passo e in questo caso fondamentale deve essere l'impegno da parte del Governo centrale. Poi ormai è tutto pronto per il Vinitali, quindi concludiamo con un sorso di vino. Omani Ronchi pronti per il Vinitali, una delle grandi aziende vitivinicole della nostra regione. Ghiutvorese ci parla proprio di questa presenza di Omani Ronchi presso il Vinitali dal 14 al 17 aprile, quindi prima potete andare al concerto di Filotrano, poi potete andare a Verona. I primi 40 anni sono un traguardo importante per tutti, ancora di più se parliamo di annate come quella che si prepara a festeggiare proprio il Leverdicchio Casal di Serra al Vinitali 2024. Un'edizione della cinquantasesima del Salone Internazionale del Vino in programma a Verona proprio dal 14 al 17 aprile che vedrà Umani Ronchi partecipare con la palma di Cantina dell'anno 2024 per il Gambero Rosso. E poi tutti i dettagli ovviamente nell'articolo di Ghiutvorese. Siamo proprio in conclusione, lasciamo quindi un invito a chi ci segue a raggiungere il vostro comune. Si può mangiare qualcosa perché ci sono tante attività commerciali, i ristorantini in cui si mangia molto bene e poi il concerto all'eventura. Sì, io se mi lasci un attimo mi permetti i ringraziamenti per tutti i nostri sponsor che in qualche maniera ci sostengono. Sponsor a cui teniamo molto insomma perché altrimenti la nostra associazione non potrebbe... Poi è l'aiuto in più ovviamente, c'è un tessuto imprenditoriale ricco e commerciale insomma abbastanza... e l'amministrazione comunale che patrocina tutti i nostri eventi. Alla fine i ringraziamenti sono doverosi anche per tutti i miei collaboratori. Io ho una qualità di presidente senza il loro aiuto... È una bella squadra, è una bella squadra a fiatà. Sì, nel direttivo non potrei far nulla, quindi abbiamo ognuno per i propri compiti che mi piacerebbe anche ringraziare pubblicamente perché io, il vicepresidente Maurizio Marra, che è anche segretario, ringrazio Emiliano Bastari che è il maestro della Junior Band. Lui segue i nostri corsi, è coordinatore dei nostri corsi, ma segue la Junior Band. Vorrei ringraziare l'ingegnere Alessandro Falappa che è il nostro amministratore e ragioniere, insomma segue tutto quello che è la parte nostra contabile. Giorgio Ristè che segue invece tutto il discorso delle parti e dell'organico. Senza tralasciare, ma lascio sempre per ultimo perché è doveroso, una organizzazione particolare, alle nostre invece componenti femminili. Alla signora Donatella Di Franco che cura tutto quello che è i nostri eventi come organizzazione. E all'avvocato Mary Basconi che invece cura le nostre pubbliche relazioni. Lei presenta, l'avvocato Bosconi. E' la nostra presentatrice oramai. La presentatrice ufficiale. Ufficiale, ufficiale. Bene, quindi appuntamento il 13 aprile alla chiesa di Santa Maria Assunta proprio prima dell'ingresso, della porta d'ingresso di Filottrano. Quindi si sale verso Filottrano, c'è questa bellissima chiesa completamente rinnovata, veramente con dei dipinti che sono stati restaurati recentemente, con il nuovo altare, è un gioiello, uno scrigno da vedere così come da non perdere il concerto del corpo mandistico Città di Filottrano. Noi ci vediamo domani ovviamente con fatti e commenti. Potete vederci anche la mattina intorno alle 7.30 in replica, ma potete vederci anche sui nostri canali social e YouTube oppure sulla nostra applicazione MyTVRS scaricabile da Android o Apple Store. Appuntamento quindi domani con fatti e commenti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.